interessante vedere o forse meglio dire preoccupante vedere quanti terremoti si sono verificati nel mondo solo nel mese di luglio o almeno dal 5 6 di luglio al 5 di agosto circa o quasi più di 400 terremoti superiori al quinto grado della scala mercalli come riferisce appunto meteo in tempo reale ecco quali porta le varie zone del mondo più o meno in tutte dove sono verificati scorsi di terremoto superiore al quinto grado della scala mercalli località luogo ora di ogni scorsa fino ad oggi come dicevo prima ecco la cosa che più che altro fa osservare come dicevo inizialmente è che gli espertivamente diranno che è tutto normale ma in un mese se normale si verificano più di 400 scorsi di terremoto di quell'entità significa che la terra è viva o comunque si muove anche perché normalmente queste scosse di terremoto creano e queste sono tutte le scosse di terremoto in un mese come dicevo prima creano danni più o meno alle cose soprattutto e forse possono preludere anche se si verificano da tempo qualcosa di ben più preoccupante per il prossimo futuro e così scorrendo tutti i terremoti che sono avvenuti nel mese di luglio viene da pensare ad una cosa come dicevo all'inizio ma non è che siamo molto sicuri sulla terra a quanto pare soprattutto perché gli esperti da tempo dicono che dovrebbero o potrebbero esserci in arrivo quelle scosse cosiddette fatali in italia in america in altre zone del mondo dove le faglie dovrebbero potrebbero aprirsi in ogni momento e sarebbero come dicono riferiscono gli esperti catastrofiche per le cose e per gli uomini ecco ma ritornando appunto alla curiosità di vedere quante scosse di terremoto si sono applicate in quest'ultimo mese viene anche da pensare non saranno per caso legate anche al sole nero che ci sarà al 21 agosto perché normalmente come la storia insegna eclissi di sole di luna nera provocano prima o dopo forti scossi di terremoto maremoti eccetera questo ovvio gli esperti lo sanno che poi lo dicono meno la cosa è molto diciamo in dubbia perché normalmente riferiscono solo cose che possono tranquillizzare giustamente la gente però come si dice la curiosità vorrebbe sapere qualcosa di più reale più che nei tranquillanti ragionamenti per mettere in pace l'anima della gente finché non le crolla la casa in testa ecco qua scorrendo mentre parlavo sono tutte le scosse di terremoto verificarsi in questi ultimi 30 giorni chiunque può andare a vedere direttamente su meteo e farsi un suo ragionamento personale ma è normale punti domanda già come sempre la fregatura e dietro l'angolo